Questo signore in ginocchio è il capo della polizia di Moniwa e non sta pregando, sta chiedendo perdono. Chiede perdono per le colpe della polizia, per aver malmenato studenti e lavoratori durante una manifestazione, per aver alzato le mani anche contro i monaci. E nel paese che fino a due anni fa i militari hanno governato con pugno di ferro, questa dei poliziotti che lavano i piedi dei monaci è un'altra sorpresa. Che convive con vecchie realtà scabrose, come la coltivazione di oppio in intere regioni, inaccessibili agli stranieri e tabù anche per le ONG. È un paese che sta cambiando e che vuole crescere, quindi noi stiamo cercando di seguire il cambiamento e in queste situazioni aiutiamo i nostri beneficiari, bambini, agricoltori, nelle zone più remote, in zone dove è molto difficile arrivare e dove è molto difficile far capire alla gente chi sei e che vuoi fare qualcosa per loro.